Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, e che si giochiamo a Roblox E ovviamente da oggi iniziano i video a tema natalizio Iniziamo con High School, ma ce ne saranno tanti altri Esattamente, faremo il 23, il 24 e il 25 a tema natalizio Su diversi giochi, speriamo che vi piaceranno E il nostro modo per festeggiare insieme a voi il Natale Che noi adoriamo Oggi abbiamo scelto High School Perché hanno fatto un aggiornamento natalizio Ci sono diverse cose, soprattutto non troppe mappe natalizie Su Roblox, ci hanno un po' deluso Io mi aspettavo molto di più, sono stata molto delusa Molto delusa da Roblox Però qua sembra interessante Allora, prima di tutto è tutto innevato, ma quello ormai è scontato Non so se hai notato che c'è Larry Che sembra una specie di boss qua, lo vedi? Oh, c'è Larry! No, non l'avevo notato Praticamente, se noti, ha un alberello di Natale con i pacchetti regalo Se tu ci parli dovresti poter chiedergli Il regalo? Ok, il regalo giornaliero Ok, vediamo Vediamo cosa ci dà Cosa mi dai? Giusto un momento, sì, aspetto Sì, aspetto, promuoviti Ah, me l'ha dato È un po' strano Ma che cosa sarebbe? A me ha dato una sedia, credo No, allora, io non ho minimamente capito che cosa mi ha dato Larry mi è deluso Larry mi è deluso, non si è capito neanche cosa mi ha regalato Fai schifo Che regalo terribile Poi, per fortuna abbiamo altre cose da fare Per fortuna almeno un po' di gioia ci sarà in sto Natale Questo elfo, che se tu ci parli dice che gli serve una mano a ritrovare alcuni oggetti Bloxy Cola, di una Void Pizza, di un Decoi Deploy È basta, mi ha dato solo quelli È basta Quindi dobbiamo andare al market a comprarli Se riusciamo a portarli tutto ci dà un Big RHS Presents Che sarebbe un regalo di questa mappa Quindi Coca Cola, Void Pizza e Decoi Noi mentre abbiamo l'orda di consolini che ci segue Sì, sì, ho già notato Mi sa che le vacanze natalizie a scuola sono già iniziate per diversi Quindi inizieremo ad avere i consolini sempre su Roblox per un po' di settimane Che bello Qua ci sono vestiti, abbiamo sbagliato i negozi No, no, non era questo Ti ricordi il negozio dove abbiamo trovato il cibo che faceva gli effetti strani? Sì E non mi ricordo Forse di qua Ma secondo me lì però compriamo solo la Void Pizza La Bloxy Cola forse era un altro negozio ancora Vediamo, vediamo Non mi ricordo Andiamo Vediamo, vediamo Comunque giustamente siamo a scuola perché è la mappa della scuola Però visto che è vacanza facciamo tutto tranne che fare le lezioni Ma ormai la scuola è chiusa, dai Cioè sei qui solo per piacere Secondo me se entri dentro c'è lo stesso qualcuno che sta facendo qualche lezione Però Magari lezioni extra per chi deve studiare Esatto, per chi magari è rimasto un po' indietro Buongiorno, ci serve una Void Pizza? Ce la fa? Allora, vediamo cosa faceva lui Allora, vorrei del cibo Dimmi che c'è la Void Pizza per favore La Void Pizza dovrebbe essere questa, no? Sì? Void Pizza, prendi Ok Poi ci serviva Non ho notato, non ho controllato se aveva le altre cose No, non è altre, ho già controllato io Quindi dovevo andare al market, vieni Che il market per fortuna è qua vicino Sì, finalmente Quindi abbiamo la pizza, ci manca Io mi sono già dimenticata tutto Mi ricordo solo la cola Non mi ricordo l'altro Bloxy cola E poi era tipo deploy Decoi Decoi Decoi, brava Qualcosa del genere Che non so minimamente che cos'è Non mi ricordo manco io Io non mi ricordo Aspetta Mentre entriamo al market Google No, aspetta Aspetta C'è la Christmas collection C'è la Christmas collection Cosa si può comprare? Vestiti Vestiti natalizi Voglio tutti vestiti Allora, questo No, ma guarda questo maglioncino che bellino Questo qua Qua Di questa qua seduta Sì, sì Molto carino Ma è tutta bellina la roba Guarda No, quello con le lucine Poi lì in alto è fantastico Cioè, guardalo Esattamente qua cosa sta succedendo? Cioè, che sta qua divertita Sta buttando nel fuoco questo poveretto Eh, vabbè Non facciamo domande Avrà preso un po' male lo spirito natalizi Che devo dire Quello da folletto è bellissimo Voglio vestirmi da folletto anche io Quale? Questo qua verde Scusa, ci siamo dimenticati che comunque Abbiamo una bellissima macchina Ma io vado con lo skate Guarda Aspetta E io lo skate l'ho perso Come hai fatto a perderlo? Eh, una lunga storia Ok, vado Questo cartoggio ci mette un po' a partire Ma poi almeno va un po' più veloce Ma poi c'è sotto la macchina Mamma mia, è lentissima Scusi? Più veloce di te, guardami Qua sei tue investito Provo a girare qua a sinistra Qua c'era anche la discoteca Che direi che non ci serve, credo No, non credo proprio Le casette sono inutili Quindi sì, entriamo a scuola E vediamo un pochettino Vedi, in un modo o nell'altro Ci stanno lo stesso facendo andare a scuola Ho trovato un regalo Ho trovato un regalo Cosa vuol dire? Ho trovato un regalo Si possono trovare in giro per la mappa Oh, ma dai Non mi avevi avvertito Guarda il mio schermo Voglio un regalo a chi? No, vabbè Vediamo Che hai trovato? Te lo dico subito Che hai trovato? Decorazioni per la casa? Sì Oh, che bello Sì, ma non hai idea di che cos'è Che cos'è? È una poltrona A forma di albero di Natale Eh, vabbè Dopo andiamo a piazzarla Dopo andiamo a piazzarla Assolutamente sì Comunque sì, tu andando in giro per la mappa Puoi trovare anche dei pochetti di regalo Ok E ti danno dei regali Quindi è una figata Capito? È bellissimo, sì Sì, sì, sì Allora, sono all'ingresso della scuola Ci sei? Eh, sì Non sei finito? Eccomi, sto arrivando in macchina Allora, inizio ad entrare Vediamo un pochettino Ecco il mio skate No, era il mio Ah, ok L'ho mollato lì Che cos'è col mio skate? Speravo fosse quello mio Oggi non ci sei, eh E l'ho perso La caffetteria? Dov'era la caffetteria? La caffetteria Eh, sì Me lo ricorderò di sicuro Eccola, 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 eccola Andiamo, 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 andiamo Eh, vabbè Mi hai spinto Scusa Vediamo se qua ci vendono quello che ci può servire Sì, assolutamente Hey, hey, hey Welcome to the caffetteria Ok Ci serve una pizzeria Smettila Allora, ci vendi la bloxicola Eh, ci vendi Fede Niki si ricordava Bloxiade Sunbox latte Tacocci Però aspetta, comprati il cookie No, vabbè, è bellissimo È bellissimo Magari ci rende più natalizi Così Ci serve un attimo una mano Allora, welcome Se stai cercando dove stare Questo è il posto giusto, no No, te l'ho detto che era per le case Però c'è un altro elfo Magari quest'elfo vende le cose che servono dall'altro elfo Ne dubito fortemente Anche io, anche io Però sono disperato O forse ci richiede le stesse cose E vedi Mi puoi aiutare a trovare certi oggetti? Certo Thank you Cosa ti serve? Frost potion Void burger E caicque Sì, vabbè No, è impossibile Ma c'è Ma sti elfi li dobbiamo lasciar perdere, secondo me Allora Io direi che abbiamo provato a fare le persone gentili Ok Adesso basta Ok Allora ti propongo la mia Dimmi Andiamo nella mia casetta a vedere gli oggetti che ci hanno regalato Sì, mi sembra giusto Dopodiché ci prendiamo la mia bellissima macchina Ok E andiamo nel bosco a cercare regali Ok Ti piace? Bella idea andare a cercare regali in mezzo al bosco Però, però Comunque vi dico anche le Al posto degli asparagi noi cerchiamo i regali Almeno è più interessante Caduti da Babbo Natale Che dicevo che anche le persone nella chat chiedono che cos'è un decoy deploy e non capiscono come farlo Quindi sono questi elfi che sono un po' matti, capito? Teleport to house Click to confirm No, ma io come la trovo a casa tua? Guardami Sono in queste casette quelle brutte qua Ok, ti ho visto, ti ho visto Aspetta che arrivo Allora, ti vedo Sei piccolina piccolina No, ti ho visto anch'io Non ti preoccupare Fatti gli affari tuoi Non girare alla prima a destra Ma gira alla seconda Lo so Lo ci ho visto 50 metri Puoi svoltare a destra Prosegua dritta per altri 45 metri Prosegua dritta Non la smette? No, non la devi smettere oggi Si apristi a mettere la freccia per girare a destra Oh, che bella casa che ho È proprio arredata con classe Sono un campione dell'arredamento Vero? Wow, bellissima Proprio super comfort Dai, vediamo subito Edith Add the furniture Allora Queste sono le cose basilari che ho Credo Aspetta Ma queste cose le dovrei pagare o ce le ho? Ah, non lo so Sono se tu Ah, no, ok Queste sono le cose che ho Allora, ho questa Che posso aggiungere alla mia casetta No, mi ha buttato fuori Ah, forse quando costruisci ci butta fuori No, secondo me ha messo proprio la poltrona Nell'esatto punto dove eri tu No, mi dice No, mi dice che non posso entrare Perché stai costruendo Vabbè, ti spio dalla finestra come un guardone Ok Ok È un po' inquietante questa cosa No, mi butta fuori anche da lì Non lo posso fare Non puoi neanche spiare da lontano Da lontano Che tristetta Da vicino no, da lontano sì E adesso puoi entrare E ci sediamo una a fianco all'altro Fammi vedere Aspetta che devo uscire dal Sei fatta? Ho tolto la sedia per sbaglio No Vabbè No Praticamente se tu la osservi bene Ha una slitta sotto La stellina sopra Sembra un albero di Natale Però che è anche una slitta E però è una sedia È che però è una sedia Bellissima Bellissima È un capolavoro Grazie Larry Ma sapevi che c'è la spiaggia in questa mappa? No Stiamo andando al mare a Natale? Oh wow Eh no Perché non riusciamo a superare queste montagne La spiaggia privata questa No ci arrivi dall'altra parte Ed è bellina perché ci sono gli srai con gli ombrelloni Siamo in pieno dicembre Ma uno ce l'ho riuscito Aspetta come l'ho fatto? Ecco Devi saltare sulla testa degli altri Vieni Eh Hanno saltato sulla tua Sì Sono rimasto l'unico sfigato di sotto Qualcuno si sacrifica? Qualcuno No eh Poverino Grazie E scendi Aiutalo Aiutatemi Qualcuno Dai mi prego Grazie Ce l'abbiamo fatto Poverino Ma Eh vabbè Grazie Mi sacrifico Andiamo Andiamo vieni Ci muoio Vabbè Che tristezza È fredda A Natale Secondo me è realistico Finalmente siamo con la macchina I consolini ci stanno seguendo Con la loro macchina Esatto Andiamo nel bosco Oh mio dio ho visto un regalo Ho visto un regalo Lo vedi lì al centro Ok corri 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 Vai prenditelo Lo vedi? Eh no Ah adesso sì Vai 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 Perché sono a fosforescenti Sì sono un po' strani Li vedi da lontano almeno Vediamo cosa mi dà questa volta Qualcosa di bello Andiamo Attenzione Momento suspense Oh Cosa ti ho dato? No Dobbiamo tornare a casa Cosa ti ho dato? Dai dimmelo Io ho visto un altro Io ho visto un altro Corro 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 Mi ha dato un tappetto E con Arredato Col fiocco di neve No Che carino È troppo bellino Adesso lo andiamo a mettere Lo combiniamo Allora prendi tutto E poi vediamo Esatto assolutamente Allora Ma si può vivere anche in queste casette Perché sinceramente Sono più belline delle nostre Non credo eh Perché altrimenti Altro pacco regalo Comunque avevo ragione Nella foresta si trovano Ne è comparso un altro Corri Corro È comparso dove ero prima Cioè Ma è una figata Questo evento natalizio Quindi compaiono davvero Ma è una figata Questo evento Io pensavo ne mettessero uno Con i morti lì Che succede? Che è più veloce E se lo prende T'hanno rubato Sì Mi dispiace Mi hanno rubato il regalo di Natale Me ne vado Me ne vado via L'importante è che sia tema natalizio Ta Un pochettino più indietro Così Ok Ta salva Ok E vieni dentro Ora sì Ma che belli Seduti Con delle sedie carinissime Un tappeto troppo bellino I consolini che scorrazzano in tutta la casa E la tv pacchetto regalo Proprio il Natale perfetto Assolutamente sì Perfettissimo L'unico peccato è che non abbiamo aiutato Quel povero elfo A ritrovare i suoi oggetti importantissimi Non mi interessa ok Sai cosa facciamo? Ci mangiamo la sua pizza Hai ragione Guarda Tanto ce l'ho Sinceramente a me frega niente Vero? E facciamo le stelline Esatto Comunque direi di fermarci così Per questo episodio di Natalizio Faremo un altro episodio di Natalizio di Roblox Gli altri due invece saranno Uno su GTA E uno su Planet Coaster Perché domenica 25 Cerchiamo di far uscire due video Se ci riusciamo Speriamo di riuscirci L'altro video di Roblox Natalizio Provate a consigliarci bene i commenti qualche mappa Però altrimenti Probabilmente lo faremo Faremo un doppio escape A tema Natalizio Perché quelli li abbiamo visti Sembrano bellini Perché tipo Abbiamo visto RoCitizens Che sinceramente non ha niente di che Esatto Poi abbiamo visto Il Take 1 è natalizio Non ci è piaciuto Se dobbiamo essere sinceri Quindi neanche quello L'abbiamo promosso Christmas Rush È davvero complicata come mappa A meno che non siamo noi Un po' No è molto caotica Un po' turrati Quindi un po' Non capisco Lo siamo solo noi E un'altra di quelle parole bellissime E' di coccio praticamente E beh di coccio è ancora peggio Turratto è quando non capisci nulla Più o meno Di coccio quindi Secondo una persona così di coccio Dura di testa Esatto Ok Bella interpretazione Vocabolario Comunque sì Quindi consigliateci qualche mappa Magari di Roblox Che non abbiamo notato Così faremo qualche altro episodio E niente Gli altri li abbiamo detti Quindi a posto così Beh ragazzi Ragazzi Se vi è piaciuto Inizio Giù già Sentici un bel like E se è la prima volta Che avete detto il nostro video Potete considerare I video di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!